Buongiorno e bentrovati all'appuntamento di metà giornata con l'informazione di Icaro Tg, un colpo di scena in una vicenda che ha già vissuto tanti capitoli della sua storia, quella dell'antenna Wind a Coriano. Antenna nel momento della sua installazione contestata dai cittadini, ora con una sentenza pubblicata il 10 gennaio, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dall'amministrazione comunale nel 2023 contro la sentenza del Tar di Bologna. I giudici hanno quindi annullato il provvedimento con cui il Ministero della Cultura aveva imposto il vincolo culturale, storico, artistico, testimoniale sul cimitero di Coriano e il conseguente provvedimento di rimozione dell'antenna Wind che era stata installata fuori dalla cinta muraria del cimitero stesso. Il Consiglio di Stato ha condiviso le censure sollevate dal Comune che evidenziavano il travisamento dei fatti da parte della soprintendenza che nella valutazione di interesse aveva omesso di considerare la reale situazione in cui versa l'area cimiteriale completamente distrutta durante la seconda guerra e ormai del tutto diversa a seguito degli interventi di ricostruzione avvenuti negli anni. Il provvedimento di vincolo, il conseguente provvedimento che ordinava la rimozione dell'antenna sono stati così annullati con condanna del Ministero al pagamento delle spese in causa in favore del Comune di Coriano e di Wind 3. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gianluca Ogolini e dal vice sindaco Domenica Spinelli che era primo cittadino di Coriano all'epoca dei fatti contestati. Una ragazza che frequenta la scuola superiore ha denunciato a Rimini il suo ex fidanzato, un 22enne rumeno, per le ripetute minacce e le aggressioni fisiche ricevute. Esasperata dagli atteggiamenti del ragazzo che pretendeva di controllare tutti i suoi movimenti ed è arrivato a minacciarla, di bruciarla con l'acido, la ragazza si è confidata con la nonna e con i genitori. Quindi la decisione di presentare denuncia e a supporto delle accuse la studentessa ha portato anche un file audio con le offese e le minacce di morte ricevute. Il giovane è indagato per stalking e ha ricevuto il divieto di avvicinamento per almeno mille metri all'ex fidanzata, ai luoghi da lei frequentati e ai suoi familiari. Cambia la popolazione di Rimini ancora in lieve aumento ma con un continuo calo delle nascite e con un calo però dopo gli anni del Covid anche degli decessi e quanto emerge dal bollettino demografico aggiornato al 31 dicembre del 2023. Vediamo. La popolazione del comune di Rimini a fine 2023 è di 150.423 abitanti, 118 in più dell'anno precedente. Le donne sono 6.000 in più degli uomini e in quello che ormai è definito inverno demografico continuano a calare le nascite. Sono 871 in totale, 85 in meno. Ma dopo tre anni su cui è inciso fortemente il Covid calano anche i decessi, 1.593 con un calo di 191. Il flusso migratorio è positivo per 818 unità. Aumentano le famiglie e soprattutto quelle unipersonali. Il calo degli stranieri, seppur lieve, conferma il trend degli ultimi anni. Per il secondo anno sono gli ingressi dall'Ucraina, 286, quelli più numerosi. Seguono Albania e Romania. Aumentano i matrimoni. Sono 416, 38 in più. Ma se quelli civili sono 38 in più, quelli religiosi sono due in meno. Si conferma il progressivo invecchiamento della popolazione. A Rimini sono presenti 212 over 65 ogni 100 giovani al di sotto dei 14 anni. Il club degli ultracentenari ha 10 nuovi membri per un totale di 65. La riminese più longeva ha 106 anni. I nomi più gettonati tra i neonati, più maschi che femmine nel 2023, hanno un sapore letterario, Ginevra ed Enea. Parliamo degli sviluppi sul caso di Pierina Paganelli, anche se non si tratta di sviluppi sostanziali, ma di una dichiarazione che è stata fatta da Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, uccisa lo scorso 3 ottobre in via del ciclamino, alla trasmissione Storie Italiane su Rai 1. Con tutta la situazione grave che è venuta fuori in seguito alla morte di mia suocera, la mia vita privata è stata messa in piazza e questo ha creato non pochi problemi non solo alla mia famiglia, ma anche alla mia famiglia spirituale, alla congregazione, il riferimento e alla congregazione dei testimoni di Geova. Era una testimonia di Geova, ha proseguito Manuela, la decisione che ho preso negli ultimi giorni è sicuramente una delle più difficili della mia vita ed è quella di dissociarmi dai testimoni di Geova. Queste alcune delle dichiarazioni di Pierina. Ieri invece era emerso questo nuovo elemento che riguarda le indagini sull'investimento del figlio di Pierina Paganelli, Giuliano, marito di Manuela, Giuliano Saponi, 54enne, che lo scorso 7 maggio era stato investito in via Coriano a Rimini da un'auto che poi non si era fermata. Le pesanti conseguenze dell'incidente avevano costretto Giuliano a una lunga degenza, a interventi chirurgici e ora ci sarebbe un'immagine che è stata isolata dagli inquirenti dove si vede questo veicolo di grosse dimensioni, un furgone o una jeep che si allontana dall'area di via Coriano interessata dall'incidente in un orario compatibile appunto con l'investimento. Bisognerà vedere se la Polizia Scientifica di Roma, che al momento sta lavorando su questo elemento, riuscirà a individuare anche la targa. Parliamo di qualità dell'aria. Dalle prime elaborazioni dei dati complessivi sul 2023 in Emilia-Romagna si confermano dei segnali di cambiamento e di miglioramento. Vediamo. Nel 2023 in Emilia-Romagna i livelli misurati dalla rete regionale della qualità dell'aria mostrano per quasi tutti gli inquinanti concentrazioni medie inferiori a quelle osservate nell'ultimo quinquennio, anche per le condizioni meteoclimatiche spesso anomale. Per quanto riguarda il PM10, da più di un decennio non si registrano superamenti del valore limite annuali in nessuna stazione della regione e nel 2023 i valori medianui sono risultati inferiori rispetto agli anni precedenti. Solo nella stazione di Ferrari-Sonzo è stato superato il limite di 35 sforamenti annuali, con 36,1 in più. La media annuale di PM2,5 nel 2023 è stata inferiore ovunque al valore limite della normativa, con valori inferiori ai 5 anni precedenti. Per quanto riguarda la media annuale di biossido e di azoto, il valore limite annuale di 40 microgrammi per metro cubo è stato rispettato in tutte le stazioni, ad eccezione di Bologna-Porta San Felice. È al capitolo zono che le concentrazioni rilevate e il numero di superamenti delle soglie continuano a non rispettare gli obiettivi di legge con una presenza ancora significativa in gran parte delle aree suburbane e rurali in condizioni estive, nei limiti biossido di zolfo, benzene e monossido di carbonio. Un lutto che ha colpito la CNA, in particolare la CNA della Valconca, si è spento dopo una lunga malattia. Odoardo Gessi aveva 65 anni, aveva avuto diversi incarichi in CNA in Valconca, associazione in cui era entrato nel 1978, era stato anche per alcuni anni assessore del comune di San Giovanni in Marignano. L'associazione esprime il suo cordoglio ricordando la storia professionale di Odoardo Gessi in CNA. Per tutti era semplicemente Odo. Questa sera alle 20.35 su Icaro TV, l'appuntamento con tutta salute, la prima puntata del nuovo anno affronta il tema dell'adolescenza. Il titolo è I ragazzi stanno bene, adolescenza tra nuove dipendenze e nuove sfide. Ospiti in studio di Lucia Renati sono la dottoressa Elisa Zamagni, psicologa e psicoterapeuta del servizio di dipendenze patologiche dell'Ausle Romagna e Giulia Rotatori, educatrice professionale del servizio di dipendenze patologiche. Vediamo un passaggio della puntata. In adolescenza la sostanza più utilizzata illegale rimane sempre la cannabis, ma al secondo posto troviamo le nuove sostanze psicoattive, che sono sostanzialmente sostanze prodotte in laboratorio che mimano gli effetti delle sostanze illegali. Ci sono particolarmente riscose perché prodotte anche in maniera un po' domestica possono in realtà determinare rischi molto pericolosi. Tra le sostanze invece legali chiaramente la sostanza principale rimane sicuramente l'alcol, come giustamente dicevi, rispetto anche all'uso di alcuni farmaci. Anche questo viene un po' sottostimato perché sono farmaci che possiamo avere a casa e che ormai sono molto diffusi, fra tutti le vendole di azepine ad esempio, che per esempio prende anche la nonna, quindi che pericolo c'è se prendo qualche goccia anch'io di Xana. Si trova in casa, poi. Che però hanno sempre un po' questo effetto di lenire questi vissuti proprio magari di ansia, quindi che hanno a che fare proprio con degli stati di alterazione dell'umore o appunto di agitazione, in qualche modo che hanno a che fare un po' con tutte le sfide a cui i ragazzi purtroppo sono chiamati a rispondere in questo periodo. Quello che noi cerchiamo proprio di fare, su cui cerchiamo di lavorare, è cercare sempre di sforzarsi di vedere l'altro lato della medaglia, cioè nel senso oltre gli aspetti dei rischi, tutto quello che invece riguarda le risorse che i ragazzi invece possono mettere in campo insieme alle loro famiglie e quindi lavorare proprio su questo. Partiamo con attività direttamente in raccordo con le scuole, dove all'interno di ogni istituto ci sono gli psicologi degli sportelli scolastici con i quali siamo in raccordo e che quindi spesso fungono proprio da un occhio di osservazione importante, perché spesso il ragazzo nei confronti dell'adulto si trova in qualche modo in difficoltà perché ha la percezione di non essere capito. Noi adulti tendiamo molto a dire, trascorre molto tempo di fronte al telefono, staccati dal videogioco, esci senza magari approfondire effettivamente il perché il ragazzo trascorre quel tempo là, quindi è un po' questo il nostro compito. Vi ricordo alle 20.35 l'appuntamento con tutta salute. L'aeroporto Ridolfi di Forlì ha presentato i voli della Summer Season 2024, voli che per l'Italia puntano soprattutto sulle isole, mentre per l'estero è protagonista la Grecia. Vediamo. Saranno 12, 6 sull'Italia e 6 sull'estero, i collegamenti effettuati dall'aeroporto di Forlì nella prossima stagione estiva col network Go2Fly. Nel mercato nazionale si punta sulle isole maggiori, quattro i voli per la Sicilia, Catania, Trapani, Lampedusa e Pantelleria, due quelli per la Sardegna, Cagliari e Olbia. Per le rotte estere invece protagonista la Grecia con cinque rotte, Vante, Cefalonia, Corfu, Lefcada e Carpathos. In aggiunta al volo su Tirana, i biglietti Go2Fly, già online con giornate e orari, prevedono tariffe, tasse incluse, da 39,90 euro con un piccolo bagaglio a mano e da 59,90 euro con un bagaglio di cabina da 10 chili. Anche per la Summer Season 2024 ci saranno tre aeromobili, due dei quali del vettore greco Air Mediterranean, impiegati su Forlì da Go2Travel nella copertura del network Go2Fly, network col quale hanno volato nel 2023 40.000 persone. La stima del Ridolfi per quest'anno è di 78.000. Parliamo di pallavolo femminile Serie A2 nella Coppa Italia. Finisce l'avventura della OMAG San Giovanni in Marignano. Le ragazze della Consolini ieri sera sono state sconfitte per 3 a 1 a Perugia. Hanno vinto il primo set per 25 a 17, poi 3 set a favore delle Perugine. 25 a 21, 25 a 18, 25 a 22. i parziali appunto a favore della Bartocini Perugia che si è imposta per 3 a 1. Protagoniste per la OMAG San Giovanni in Marignano, in particolare la Ortolani con 21 punti e la Nardo con 14 punti, ma non è purtroppo bastato per arrivare alle semifinali di Coppa. In chiusura uno sguardo al meteo per quelli che dovrebbero essere i giorni più freddi di questo gennaio, anche se siamo in situazioni decisamente nella norma. Oggi cielo coperto con qualche schiarita, una temperatura massima di 6 gradi che è in linea comunque con le medie stagionali. Per domani cielo sereno, ma con la possibilità di qualche sporadica precipitazione anche mista a neve nelle zone dell'entroterra e nelle alture stabile, la temperatura massima 7 gradi, ma sui rilievi le minime potranno scendere anche a 3 gradi sotto zero. La tendenza per sabato, una situazione simile con cielo sereno, ma anche la possibilità di qualche annuvolamento. Temperature massime che restano stabili, 7 gradi e minime che restano invece sotto lo zero per quanto riguarda i rilievi, meno 1, la minima prevista. Siamo in conclusione. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it e la nostra piattaforma video Icaro Play. Grazie a tutti per averci seguito dalla redazione e ancora l'augurio di una buona giornata.